Io volevo sapere, hai parlato di un film che è rimesso in gioco anche personalmente, di un confine tra vita e lavoro che non è così definito. Quali sono stati i sentimenti più importanti che ti hanno guidato nell'interpretazione del tuo Massimo? Ma l'accettazione di avere comunque strada facendo, vivendo, di poter incontrare degli ostacoli molto grossi che se non li affronti subito diventano mostri e poi la sensazione che il mostro comunque devi imparare a conoscerlo e alla fine lo devi accettare e soltanto così puoi proseguire. Quindi sensazioni fondamentalmente rispetto al dolore e a quanto la vita poi non la devi subire mai, anche quando è molto molto complicata. E poi ha la possibilità di liberarsi di qualcosa. Questo personaggio un po' fa così e io entro proprio in gioco nell'ultima mezz'ora di film, è proprio questo, è questo incontro con questa donna, questo ballo liberatorio. Quindi ci ho messo un po' di cose mie che adesso non credo che interessino, spero non interessino alle persone. Però è un film, è un personaggio veramente molto molto in contatto con quello che sono. Non mi è capitato spesso, anche quando ho fatto personaggi molto, magari molto dentro i problemi della vita reale, però questo mi ha toccato particolarmente. E questo dimostra pure quanto questo personaggio, nonostante il tratto dal libro, di un personaggio che esiste, è un personaggio simbolo di tante storie e tante vite vissute. Benis, che cos'è secondo lei del suo personaggio che fa scattare qualcosa nella vita di Massimo? È una proiezione materna o è qualcosa di più? Io non ho immaginato che il potrebbe avere un rapporto con me, materno. C'era nel scenario, al principio, io non sono la madre, io non ne rimplacerei la madre. Ma dopo, Marco l'a eliminato e non ho mai avuto il personaggio sotto questo punto. Io ho immaginato piuttosto una incontrazione. In la vita, tutto un po' di chi, qualcuno arriva e c'è la buona persona, c'è quella che sapevi sentire, che sapevi guardare, che sapevi parlare. E io penso che ciò che succede a questo momento, è che Elisa è potente la persona la più centrata che l'ai incontrato durante molto tempo. e io mi ricordo che Marco mi ha chiesto in la scena, la prima scena in cui ci siamo incontrati a l'hospitalo, di non ne rimanere, di guardare in fronte, di avere una specie di calma e di serenità, che, all'unico, gli permette di sentire, di rendere in contacto con lui stesso e di lasciare andare. La prima scena è che lei mi ascolta il cuore, quindi è anche simbolica dal punto di vista, uno che poi il cuore l'ha messo in valigia bene, insomma, protetto bene. Una cosa che volevo chiedere a tutti e due, la mia impressione è che questo non sia soltanto un film che racconta una perdita dal punto di vista di un figlio, c'è qualcosa che racconta moltissimo del lato dei genitori, paradossalmente forse anche di una persona morta. Avete mai pensato a fare i bei sogni come un film sui genitori? Anche, può anche essere letto in quella direzione lì. Ne parliamo da un po', insomma, oggi. Dire o non dire a un bambino una cosa del genere, il modo per raccontarla, quanto è più la paura di un adulto, piuttosto che la paura degli effetti che può suscitare una verità così forte. Però, come diceva lei prima, c'è sempre un modo per dire ai bambini delle cose, anche quelle più tremende, perché poi la forza di un bambino è proprio nell'essere bambino, quindi nell'avere delle risorse inconsapevoli, proprio perché non si è ancora vissuto, non si è ancora corrotti e chiusi dentro delle paure. Quindi anche la paura di un bambino è una paura molto più sana della nostra, perché è una paura di pancia e non di testa. Un bambino è triste su qualcosa del presente, non ne va capire per capire, non ne va capire capire, non ne va capire capire di più avere una verità per il futuro. Il va vivere il momento presente, ma verità è morta. Il va vivere là, allora che noi, come amici, quando diciamo a un bambino, che ha un bambino o la mamma è morta, quindi noi sappiamo cosa vuol dire per il futuro, per la lunghezza, ciò che va mancare, ma il bambino non lo sappiamo ancora. Quindi credo che noi, abbiamo progetto effettivamente le peure, ma che, finalmente, un bambino può sentire e deve sentire, perché è come questo che siostruirà il meglio.